Un'auto con a bordo due anziani è entrata a contromano sulla rampa della tangenziale a Montale e si è scontrata con un altro veicolo. I due anziani sono finiti in ospedale in gravi condizioni. Giornata emozionante alla sala Razzi del Collegio Alberoni dove hanno giurato 23 nuovi medici, premiati 22 decani dell'ordine. Infiltrazioni d'acqua nella scuola primaria di Roveleto di Cadeo dove sono in corso lavori al tetto. Lunedì lezioni sospese da martedì nuova collocazione per le classi. Sorpresa a Palazzo Farnese, Albano Carrisi ha visitato la mostra ai musei civici, i presenti hanno chiesto foto e autografi al popolare cantante. Calcio, Piacenza e Fiorenzola vogliono tornare a vincere, Biancorossi domani in trasferta contro Progresso, ultimo in classifica, Rossoneri in casa contro Limolese. Tutte le altre notizie sono a disposizione sul sito www.liberta.it www.liberta.it